A volte ritornano non è solo un modo di dire, spesso è un dato di fatto, come le buche nell'asfalto a Fano. Sembrerebbe che l'incubo peggiore di un automobilista, ovvero distruggere preumatici e cerchioni in una buca nel bel mezzo della careggiata, stia tornando per i fanesi. È successo ieri sera, poco dopo le 21.30 in via Papiria, nel tratto tra la Nuova Rotonda ed il Vallato, dove ben sei autovetture in rapida sequenza sono rimaste azzoppate all'autostrada. La responsabile? Una mini voragine nell'asfalto del diametro ridotto ma profonda e dai bordi spigolosi e taglienti come rasoi, dove anche i pneumatici della marca migliore hanno fatto tutti una brutta fine, come mostrano le foto dei malcapitati messe su reporter di strada e le auto tristemente lasciate a bordo strada, ancora da recuperare questa mattina. Il manipolo di malcapitati ha chiamato Polizia Locale Carabinieri per denunciare l'accaduto, che si sono subito attivati con chi di competenza per porvi il rimedio. Infatti stamattina alle nove la buca assassina era già stata tappata, ma anche gli stradini del comune di Fano si sono dati da fare lungo il pezzo di strada e ci hanno messo più di una pezza. Ma è una evenienza questa che in maniera preoccupante si sta intensificando come frequenza in città. Ora dopo un periodo di tregua, post nuove asfaltature, in alcune zone della città, le più stressate dal traffico, il manto messo in posa non sembra averla tenuta sperata. Via Roma, Viale Gramsci e parte di Viale Buozzi nelle sezioni iniziali mostrano ampie zone di avvallamenti e di asfalto crepato, ma anche altre zone come Via della Giustizia vedono la comparsa di buche killer. In via Giulio Cesare, nel bel mezzo dell'attraversamento pedonale, una insidiosa buca profonda e sfaldata mette a rischio l'incolumità fisica di ciclisti e pedoni, soprattutto anziani, che dovessero capitarci sopra. Alle auto invece ci pensa, sempre nella stessa via, 25 metri più avanti una buca di 50 cm di diametro per 30, molto profonda, che non lascia scampo ai pneumatici delle auto di passaggio che alle volte se la scampano da fine certa solo grazie alla bassa velocità che si tiene in questo punto, ma noi pensiamo sia solo una questione di tempo.